Narrativa, saggistica, storia, ma anche classici della letteratura e una particolare edizione della Costituzione italiana. Da oggi la Biblioteca Michele Romano di Serni è più ricca, grazie a un'iniziativa promossa in tutta Italia, ma soprattutto grazie alla sensibilità e all'amore per la cultura dimostrata dagli Sernini e soprattutto dai bambini. È andata molto bene, devo dire, anche inaspettatamente, perché al momento in cui mi era stata presentata la campagna da parte della libreria Giunti, io non avrei mai pensato che si potessero raggiungere questi risultati sui Sernia, invece abbiamo raggiunto un risultato che in proporzione è anche maggiore rispetto a quello che si è raggiunto su altre città. Quasi 300 volumi, 297 per un equivalente di 1800 euro. Va considerato che noi come bilancio per la Biblioteca abbiamo in tutto 5000 euro, quindi è una boccata di ossigeno non irrilevante. Dona un libro alla tua città, a Sernia ha dunque riscosso un successo oltre ogni attesa, se si considera che in città grandi come Genova sono stati raccolti appena 1000 volumi. Tra l'altro non è la prima volta che la Giunti propone iniziative del genere. L'anno scorso abbiamo raccolto all'incirca 240 libri per il reparto di pediatria di Sernia e abbiamo creato lì una piccola biblioteca. Quest'anno invece la Giunti ha sposato la causa delle biblioteche comunali di tutta Italia. Penso che 300 libri per una realtà come Sernia sia veramente un ottimo risultato, anche più di quello che ci avevano richiesto proprio dall'azienda. Noi ne siamo veramente soddisfatti, ringrazio gli Sernini e la loro generosità. Sono libri soprattutto di narrativa moderna perché abbiamo proprio fatto questa richiesta, perché il direttore ci aveva detto che i classici qua già ne hanno veramente tanti, perché è una bellissima biblioteca. Perciò abbiamo raccolto soprattutto libri di narrativa moderna, gialli, thriller, glamour, attualità, libri di attualità, libri per bambini. Grazie.